Ben ritrovati su Ad Maiora Vertite. Oggi parleremo dei lari e questo sarà il primo video di una serie di altri video in cui tratteremo delle divinità familiari nel tentativo di fare un po' di chiarezza su questo argomento. Le divinità familiari sono principalmente lari, penati e mani. A questi poi si aggiungono tutta quanta una serie di altre divinità, diciamo minori, che compaiono solo occasionalmente come poi non sono propriamente delle divinità. Comunque vabbè, lemuri, larve, più in generale gli dei parenti, insomma tutta una serie di altre categorie. Oggi tratteremo la prima di queste divinità che sono i lari, che pensate non compaiono non solamente nel contesto familiare ma anche a livello pubblico. Questa cosa accade anche per alcune delle altre divinità, lo vedremo nei prossimi video, rischiate di perdere i prossimi. Perciò, insomma, ciancio le bande e cominciamo! Allora, i lari sono divinità che sono favorevoli alla famiglia. Su questo non c'è nessunissimo dubbio. Da dove vengono questi lari però è una questione un po' più complessa. I lari molto probabilmente hanno origine etrusca e molto probabilmente derivano dalle lase etrusche, da lasa. Questo lo sappiamo perché la forma arcaica di lares è proprio lases, che compare anche nel Carmen Arbales, no, enos, lases, iuvate, e che poi, a seguito di un rotacismo che era già noto in antichità, diciamo dell'evoluzione linguistica, si è tramutato in lares. La presenza dei lari nella religione etrusca è attestata anche da una notizia di Marziano Capella, che ci riporta che, nella divisione del cielo etrusco, una parte di queste regioni erano occupate dei lari, nello specifico la prima regione era dei lari in generale, la seconda regione dei lari militari della quarta regione dai lari celesti e la decima regione dai lari omnium punctalis. A livello etimologico, il termine lares e prima ancora lases derivano dalla radice indoropea las, che significherebbe bramare, desiderare, essere avido, molto probabilmente in riferimento non tanto alle caratteristiche della divinità in sé, quanto piuttosto all'officiante, il quale ha un desiderio nei confronti dei lari. Per cui, semplificando, i lari sono quelli a cui si chiede di soddisfare i propri desideri. Ecco, mettiamola così. Indubbiamente il culto dei lari nasce nell'ambiente domestico, anche per una notizia di Festo che ci riferisce che in origine, in antichità, esistevano delle sepolture in ambito domestico, queste sono state ritrovate in ambito archeologico, soprattutto per quanto riguarda gli infanti, i morti prematuri, e la notizia sarebbe comunque confermata anche dalle leggi delle dodici tavole, in cui in una di queste veniva specificato che i morti dovevano venire sepolti fuori dalla città. È implicito che se viene messa una legge in quel momento lì, vuol dire che precedentemente, o comunque precedentemente, diciamo, all'introduzione orale di questa legge, che poi le dodici tavole trascrivono, usava, avveniva comunque che si seppellissero dei morti all'interno della città e della propria abitazione. Molto probabilmente il culto dei lari nasce da qui. Infatti noi abbiamo anche dei lari specifici che sono connessi ai morti anzitempo. Infatti il culto dei lari è comunque un culto legato in qualche modo a dei defunti, non nel senso che esiste il lare di Mario Rossi, ma che, quando Mario Rossi muore, si trasforma in un lare in determinate condizioni. Cicerone riferisce l'importanza del culto dei lari, dicendo che il loro culto doveva essere mantenuto e trasmesso non solo di padre in figlio ma anche rispettato dai servi e implicitamente l'importanza viene riportata anche da Catone quando all'inizio del suo testo sull'agricoltura dice che quando il paterfamilias giunge al campo la prima cosa che deve fare è andare ad onorare i lari presso il larario. Cos'è il larario? Il larario era una specie di tempietto domestico presente in tutte le case, dalle ville dei patrizi alle insule dei plebei all'interno delle quali si veneravano appunto i lari accendendo lucerne, facendo piccole offerte. Oggi i tradizionalisti romani all'interno del larario generalmente tendono a fare tutti i riti ma questa è una limitazione del fatto che non esistono altri luoghi di culto. L'attestazione più antica del culto dei lari è presente nel carne narvale, quello che vi citavo all'inizio. E molto probabilmente comunque in questo carne vi è un apporto etrusco non solo per quello che vi ho detto prima riguardo l'asa ma anche per il fatto che in alcuni specchi etruschi compaiono dei geni alati chiamati lase che molto probabilmente si connettono appunto con i lari ma anche l'esistenza di una certa larns che sarebbe l'equivalente etrusco della latina, del latino larundo che a Roma diventa larunda o lara madre dei lari e che viene poi identificata con H. Larenzia e festeggiata ai Larentalia al 23 dicembre. Tuttavia la complessità del culto dei lari a Roma non si può semplicemente spiegare come un'importazione dal mondo etrusco anche perché come abbiamo detto comunque la radice è indoeuropea e la lingua etrusca non è una lingua indoeuropea per cui molto probabilmente questo culto dei lari doveva appartenere a un substrato italico comune che appunto ha portato a varie influenze reciproche di cui diciamo solo l'ultima fase ha visto una massiccia importazione dal mondo etrusco. Ora cerchiamo di capire un po' meglio la natura di questi lari. Arnobbio, riferendo l'opinione di Varrone ci riporta che i lari sarebbero le anime delle persone defunte e infatti, a sostegno di questa cosa dice che la madre di Ilari è soprannominata anche Mania connessa ai mani che sono gli spiriti dei defunti generici ogni volta che in un epigrafe vedete la dicitura DM sta per Dis Manibus cioè dedicato agli dei mani generalmente poi sotto c'è scritto di Tizio Caio Sempronio questo perché appunto i mani sono gli spiriti di uno specifico defunto i mani compaiono sempre al plurale quando una persona muore questo molto probabilmente diciamo esplode in una moltitudine di mani la madre dei mani è Mania e per cui viene fatta questa analogia allegare i lari ai defunti è anche festo precisando che ai compitalia per risparmiare i vivi dai lari si appendevano dei fantocci di lana rappresentanti gli abitanti di una specifica casa molto probabilmente questa è l'antica memoria l'antica sopravvivenza di un sacrificio umano Apuleio dichiara che i lari familiari sono gli spiriti dei defunti che sono morti serenamente e per questo diventano positivi per la famiglia mentre Marziano Capella ci riferisce che sono le anime degli uomini virtuosi che quindi diventano geni tutelari chiamati Lases o Lares perciò noi possiamo dire che i lari si configurano certamente come delle divinità benevole per la famiglia apparentemente non risultano essere infere nonostante il loro legame con Lara e Mania e forse a sostegno di questo vi è anche il fatto che le fonti ci riportano la necessità del sacrificio di un porco nel caso in cui dovesse apparire in sogno un antenato defunto un defunto in generale al fine di stornarlo per cui i lari vanno a contrapporsi ai defunti comuni in un certo senso i lari diventano gli unici le uniche divinità defunte autorizzate a rimanere nel piano dell'esistenza nostro e a convivere con i vivi mentre invece tutte le altre divinità dei defunti vengono regolarmente scacciate via molto interessante e utile per la comprensione dei lari è anche l'esistenza dei lari compitali queste divinità protettrici dei crocicchi di campagna che venivano venerate nel contesto degli abitanti di quelli che abitavano intorno a quello specifico incrocio molto probabilmente vi era un legame con un defunto comune che appunto riconosciuto come lare creava una sorta di legame di carattere sociale con i vicini ai lari compitali la tradizione ci riporta che Tarquino il Superbo avesse imposto che si facessero dei sacrifici di teste di bambini e che poi Lucio Bruto fondatore della Repubblica abbia fatto sostituire con teste d'aglio e fiori di papavero aggiungiamo una cosa il termine lar in ogni caso era un titolo onorifico che veniva dato in ambito etrusco pensate a lar porsenna che significa potente ecco questa potenza del lare noi la possiamo vedere in diversi aspetti sia del mito che dell'ambito religioso la potenza dell'are domestico è appunto già evidente per il fatto che tutte le richieste vi ricordate quello che vi ho detto all'inizio venivano portate a lui infatti sebbene la nostra immagine della religione romana ruoti intorno alle divinità maggiori nella realtà gran parte della pratica religiosa era rivolta alle divinità familiari non solo una delle varianti del mito della nascita di Servio Tullio prevede proprio che un fallo infuocato fosse uscito dal dal camino e questo fallo era proprio l'are della casa e avesse messo in cinta una serva da qui appunto anche il nome Servio per cui la potenza del lare è tale per cui riesce anche a manifestarsi fisicamente e a come dire impattare sulla materia perciò i lari si occupano di il lare si occupa di progredire la specie di proteggere garantire la felicità e la serenità sotto il tetto della casa e all'ambiente domestico in un certo senso però il lare ha anche certe caratteristiche del pater familias infatti è eterno possessore della casa comandante comanda sulla famiglia e garantisce la sicurezza e la felicità di tutti quanti gli abitanti della casa appunto di famiglia ed è dunque partecipe di tutte le vicende familiari e proprio convive attivamente con il resto della famiglia questa figura dell'are singolo che inizialmente era preeminente nel tempo soprattutto nella tarda repubblica e ancora di più in età augustea il suo ruolo viene ricoperto sempre di più dal ruolo del pater familias dal genio del pater familias questo in analogia con lo sviluppo e la crescita dei personalismi e ancora di più su imitazione della centralità che aveva assunto già Ottaviano durante il principato per cui c'è questo cambio e per cui il lare lentamente va a moltiplicarsi diventando i lari anche forse per includere un numero sempre maggiore di individui illustri che sono considerati appunto degni di di diventare lari infatti infatti agostino ci riporta alcune informazioni relativo relativa alla figura dei lari cioè i lari secondo lui secondo quanto ci riporta sono gli individui che si sono comportati bene in vita e perciò si trasformano in lari e passano il resto dell'eternità venerati dai membri della famiglia e vicini al focolare domestico mentre invece chi si è comportato male lo vedremo nei prossimi video si trasforma in un lemure ed è invece condannato a venire regolarmente cacciato via dalla dimora familiare vi dicevo che i lari hanno anche un aspetto pubblico conosciamo il tempio dei lari permarini i lari militari dei quali però la questione è un po' più complessa e mi sono reso conto che forse è meglio farne un video a parte per cui vi rimando alla prossima volta e a una prossima volta bene spero che anche questo video vi sia piaciuto se è così mettete un placet e condividetelo con i vostri amici perché altrimenti non lo vedranno mai il libro consigliato di oggi è questo il culto privato in Roma antica di Attilio De Marchi edito Victrix questo libro è datato perché è datato però forse è uno dei libri più interessanti ancora attualmente in circolazione in merito appunto al culto privato in realtà questo libro è diviso in due volumi questo è il primo volume che riguarda la religione nella vita domestica iscrizioni ed offerte votive il secondo volume invece si occupa dei collegia e delle associazioni all'interno del libro è riportata tutta quanta la descrizione di tutta la religione privata domestica ma anche modelli rappresentativi dei lari insomma moltissime informazioni appunto sulla religione privata per cui anche esempi di riti vengono riportati tutta quanto un'analisi sull'evoluzione dell'are dei lari insomma è un libro abbastanza completo ecco mettiamolo così sebbene ripeto che sia abbastanza datato perché se non sbaglio la prima edizione è dell'896 per cui cioè parecchio tempo indietro però comunque insomma è ancora valido anche perché gran parte delle informazioni sulla religione privata diciamo che sono quelle ecco per cui sì io ve lo consiglio caldamente anche per chi pratica la religione romana è un libro utilissimo bene abbiamo detto tutto se il video vi è piaciuto mettete un placet e condividetelo con i vostri amici così anche loro avranno modo di vederlo e noi ci vediamo la prossima settimana valete ottime in pace deorum